ben trovati a questa nuova puntata di a lei in forma con noi c'è sempre il nostro preparatore jacopo ghidini ciao jacopo ciao ale e oggi andremo a vedere come migliorare come potenziare sia le gambe che il solito core che a noi piace continuare a migliorare ok si nella ripartenza all'attività fisica quindi nel riapprocciarsi è fondamentale come diceva un'altra volta un potenziamento muscolare e ovviamente le gambe è fondamentale allenarle primo esercizio per principianti che comunque coinvolge una muscolatura importante che sono i quadricipiti si chiama wall sit ale si siede contro un muro quindi trovate una superficie stabile la cosa importante è che tutti gli angoli all'anca il ginocchio e la caviglia siano a 90 gradi quindi in questo caso le deve scivolare appena appena verso il basso e spingere le ginocchia leggermente verso l'esterno quindi il ginocchio deve essere allineato sopra la caviglia con la parte alta deve rimanere rilassato deve semplicemente respirare la cosa importante è spingere con tutta la pianta del piede anche questo esercizio si fa tempo per iniziare 15 20 secondi possono andare bene per i principianti i più esperti possono arrivare addirittura anche al minuto a minuto e 15 magari con dei pesi tenuti con le braccia appoggiati sulle cosce dopo un esercizio statico jacopo ne facciamo uno dove c'è un po più di movimento ma fondamentale esattamente è lo squat esercizio importantissimo nel potenziamento muscolare cercheremo di vederlo abbastanza rapidamente e selezionare quegli errori tipici da escludere e che non vanno fatti perfetto la posizione giusta mi raccomando i piedi devono essere leggermente più larghi delle anche la punta leggermente verso l'esterno ma dipende molto anche dalla vostra conformazione fisica quindi ci sarà chi apre molto chi invece sta un po più stretto quando fate uno squat dovete essere comodi mi raccomando fai vedere l'esercizio ale bravo la discesa è lente controllata e si risale la discesa è lenta la salita può essere leggermente più veloce bravo ale fanno vedere un altro ottimo come vedete lui cerca di tenere sempre tutta la pianta bene in appoggio e spingere con tutto il piede quindi non bisogna mai sbilanciarsi in avanti o all'indietro non è obbligatorio rimanere perfettamente verticale col tronco ma ci si può sbilanciare leggermente in avanti bravo ale riposati jacopo abbiamo visto come va fatto correttamente quali sono gli errori che si fanno più spesso facciamoli vedere sì certo ora li facciamo vedere i due più frequenti sono quelli in cui ci si sbilancia quindi il carico non è più ben distribuito questo per esempio è lo squat ecco lo squat dei calciatori chi viene dal calcio spesso o chi fa running fa questo errore carica molto sull'avampiede perché per lo sport che ha fatto e portato stare sull'avampiede come vedete stacca il tallone il corpo non è più bilanciato lavora solamente il quadricipite l'altro errore è il contrario quindi il carico che va all'indietro in questo caso perché sei troppo bravo a farlo quindi quando devi fare quello sbagliato non ti viene perfetto in questo caso lui mette molto carico sul tallone si sbilancia l'indietro questa variante è pericolosa perché si sovraccarica molto la colonna nel primo errore sovraccarico le ginocchia qui la colonna quindi lo squat ragazzi non sottovalutatelo fatevi seguire magari nel primo approccio